In occasione di questo 47esimo congresso nazionale, sì, in Ferrieri si è svolta la premiazione del Prigalien, del premio Galeno. È la seconda edizione del premio Galeno in Italia per i medical device, ma il premio Galeno in realtà esiste dagli anni 70, è gestito, è nato in Francia e è nato per premiare la migliore produzione delle industrie farmaceutiche. Da lì poi c'è stato progressivamente uno sviluppo con anche una parte interessante diretta ai device, quindi agli ausili, alle ortesi e alle protesi. Esiste una stretta correlazione fra Springer, premio Galeno e in questo caso anche MR, medicina riabilitativa, perché medicina riabilitativa, la rivista, se ne è fatta in qualche modo portavoce, sposando assolutamente l'iniziativa del nuovo editore che è, come dicevo, Springer. Quest'anno il premio Galeno ha visto una discreta adesione di industrie sia internazionali che nazionali e la giuria, che è fatta da esperti sia medici che ingegneri, ha deciso di premiare la Abbott, un device prodotto dalla Abbott che è una strumentazione apparentemente molto semplice, ma che permette di determinare le variazioni glicemiche senza la solita puntura, cioè senza il prelievo ematico. Questo è indubbiamente un enorme vantaggio perché ci sono ad esempio pazienti diabetici che sono sottoposti magari a 4, 5, 6 prelievi al giorno, quindi capite qual è l'importanza di avere un presidio che permetta il monitoraggio della glicemia senza mezzi invasivi. E lo è anche per la riabilitazione, perché lo è soprattutto per la riabilitazione e per il monitoraggio dei carichi di lavoro di pazienti diabetici e questo è, devo dire, sicuramente un enorme grande vantaggio. È già partita per il prossimo anno, per il 2020, per il congresso nazionale che si terrà a Milano la nuova campagna acquisti per vedere come le industrie aderiranno e quali saranno per il 2020 le nuove, le novità insomma che ci saranno nel mondo dell'industria e che porteranno quindi alla premiazione per il 2020 del premio Galeno.